Io sono dell'avviso che se giochiamo sempre a questo tipo di calcio con aggressività, con senso logico, con modo di giocare di un certo tipo, possiamo solo far bene, siamo solo all'inizio di quello che vogliamo creare. Però sono orgoglioso di avere un gruppo del genere che in poco tempo, in una settimana e mezza che ci alleniamo su un campo di dimensioni irregolari riesce a fare queste cose. A me quello che dice il mondo, la gente, non mi interessa. Io so quelli sono i nostri valori e soprattutto so quello che fanno i ragazzi durante la settimana. Ne sono orgoglioso, ma molto orgoglioso perché anche oggi hanno giocato a una porta e non abbiamo subito un tiro in porta. Anche sabato? Uguale. Cambierà. Qualcuno mi dirà adesso dell'arbitro se c'era rigore o no, se c'era un rigore su Ilari o no, non lo dico. Tutto si può migliorare. Però io credo che quello che avete visto oggi sinceramente è benemogrante per il mondo del gioco del calcio. Se poi si vuole una squadra che la butta in tribuna, che la butta a lunga, che tira pallonate, se uno è più contento così, gli piace di più così, qui non sarà così. Sulla gestione del risultato alla squadra ha qualcosa da rimproverare? Sabato in vantaggio recuperati, oggi al di là del rigore che non c'era, anche rimontati. Mi spiegate come poteva fare gol a Viterbese oggi? In che modo? Io non ho mai visto una squadra che ci ha messo un indice di pericolosità. Ed è una squadra che ha vinto a Bari, una squadra che ha battuto il Catanzaro. Non sono le squadre del paese che vengono qua. Pensiamo di giocare contro il viva il parroco, ma non è così. Il calcio è difficile. In questo momento poi, dove tutte le condizioni psicofisiche sono modeste per qualcuno, ottimi per qualcuno, insufficienti per qualcuno, noi ci abbiamo messo il massimo impegno per vincere, come faremo sempre. Centrocampo ad alto livello. Ottimo, ottimo. E anche con giocatori in panchina, come Costa Ferreira, che è ancora in ritardo, con Mungo, che gli ha dato un turno di riposo, con Ilari, che è un altro giocatore per noi molto importante, soprattutto nella fase finale. Tanto è vero che sull'episodio del calcio di rigore c'è lui perché va a colpire di testa. È molto forte a chiudere le azioni, quindi lo sappiamo. Abbiamo molte frecce nel nostro arco e ce ne stiamo giocando bene. Mi dispiace solo avere quei due o tre punti in meno, che sono figlie di prestazioni, secondo me, positive, ma i quattro punti lasciati tra le rende oggi, purtroppo, sono pesanti.